Ragazzi, oggi il vincitore dei 75 USDC della giveaway è grado 0 e possiamo anche vedere la transazione su VSC Scan proprio qui e quindi congratulazioni a Grado Zero e grazie mille come sempre per il supporto a voi ragazzi, siete assolutamente, assolutamente fantastici e inoltre ricordatevi che tutti quanti lunedì facciamo una nuova giveaway e per partecipare basta solo essere iscritti e seguire le istruzioni che spiegheremo durante il video e come sempre ragazzi, buona fortuna a tutti e adesso cominciamo con il video. Ragazzi, oggi ho alcune cose molto importanti di cui parlare perché a meno di 24 ore vedremo una grande volatilità in Bitcoin e nel resto dei mercati parleremo di questo fatto, parleremo anche del perché la storia sta per ripetersi perché abbiamo una particolare struttura che abbiamo già visto tre volte in passato in Bitcoin ed ogni volta che abbiamo visto questo fatto è stata un'ottima opportunità di trading in Bitcoin in generale inoltre parleremo anche di un canale che abbiamo per quanto riguarda il breve termine e anche di quello che dovete sapere per fare dei bei profitti appunto nel mercato e come sempre ragazzi, bentornati a tutti, mi chiamo Marco, portano un video riguardo le crypto ogni giorno, mostrano come fare il soldo in questo mercato e se non siete iscritti potreste considerare l'iscrizione e vedrete che la campanella sarebbe assolutamente fantastico e ragazzi se vi piacciono i nostri contenuti assicuratevi anche di mettere mi piace ai nostri video e quindi cominciamo subito con il grafico da 4 ore perché possiamo vedere che siamo ancora in una piccola tendenza al ribasso, per adesso siamo proprio ora sotto questa fascia arancione a 22.200,500 e ricordate che questo è un livello estremamente significativo per il prezzo perché questo è il motivo per cui abbiamo incontrato una resistenza anche in precedenza quando stavamo cercando di superare questo livello e inoltre abbiamo anche parlato della media mobile da 200 settimane e di come ancora dobbiamo fare attenzione a questo livello perché anche se stavamo facendo un trading all'isopra di essa avevamo comunque sia una discreta possibilità di scendere sotto questo livello durante il fine settimana e quindi avremmo potuto vedere un pullback che alla fine chiuderà lì sotto di questo livello perché questo qua è ciò che i Berish volevano vedere nel mercato, volevano che il prezzo di Bitcoin chiudesse lì sotto di questo livello perché questa qua è un'enorme resistenza per Bitcoin e quindi questo dimostra solo che i Berish continuano a controllare il mercato per adesso anche se stiamo assistendo ad alcuni berragli appunto nel prezzo ma stiamo ancora vedendo qualche aspetto negativo per adesso e quello che penso comunque sia ragazzi che il minimo a 17.700 potrebbe essere il minimo assoluto in questo ciclo e che alla fine andremo più in alto ma stiamo pensando che avremo delle oscillazioni verso l'alto e verso il basso prima di vedere appunto un bel consolidamento ed in generale forse andremo verso l'alto ma avremo anche delle belle oscillazioni appunto in entrambe le direzioni per adesso e in questo periodo e quindi ragazzi è qui che vogliamo realizzare appunto dei bei profitti ma adesso parliamo anche di un altro fatto perché abbiamo aggiustato anche la linea di resistenza verso l'alto in questo cunio possiamo vedere che abbiamo colpito questo livello in questo caso e questo è ancora un canale molto valido e quello che possiamo vedere è che siamo ancora dentro questo canale e andremo a superarlo prima o poi ma se continuiamo a fare trading in questo modo alla fine andremo più in basso e quindi stiamo controllando questo fatto e possiamo anche prendere profitto o per esempio aprire una posizione in short verso l'alto o verso i punti alti in queste zone per poi prendere il nostro profitto mentre scendiamo a livelli più bassi e quindi questo qua è quello che stiamo cercando di fare adesso questa qua è la strategia che stiamo utilizzando in questo periodo ragazzi e quindi volevo solo sottolineare che ancora una volta la media mobile da 200 settimane è una forte resistenza siamo sotto questo livello dobbiamo ancora 7 giorni per vedere dove andrà a chiudere questa candela ma vogliamo vedere un rally di sopra della media mobile da 200 settimane per poter diventare rialzisti o più rialzisti insomma nel mercato e nel frattempo cercheremo anche di fare dei bei profitti quando vediamo dei bei movimenti appunto nel prezzo inoltre ragazzi voglio anche mostrarvi un'altra cosa in realtà voglio mostrarvi un tweet e quindi questa settimana avremo delle belle possibilità per fare il trading perché domani abbiamo la riunione della FOMC sarà super vitale e i mercati andranno a controllare quello che diranno abbiamo anche gli earning di Microsoft e Google che avranno un impatto sui mercati molto pesantemente insomma abbiamo anche gli earning ovviamente di Meta il giorno dopo ed avremo anche altri fatti molto importanti in arrivo quindi fate attenzione a questo e queste qua sono cose importanti ragazzi perché vedremo un'enorme volatilità a partire da domani adesso fermo un attimo il video vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti pensate che questo mezzo sarà bearish o sarà rialzista per Bitcoin fatemi sapere nei commenti e inviate anche il vostro portafoglio di Binance Smart Chain altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori è giusto per chiarire basta inviare il portafoglio una volta soltanto anche se rispondete a più domande e più video e noi controlleremo l'indirizzato tramite lo storico dei commenti e quindi ragazzi buona fortuna a tutti adesso continuiamo con il video e adesso invece voglio mostrarvi questo grafico questo qua è un grafico di TechDev è quello che possiamo vedere che dal punto più alto di questa struttura al punto più basso abbiamo lo stesso tipo di struttura abbiamo un caro abbiamo un rally nel mercato bearish e quindi questo intrappola molte persone che dicono che andremo più in alto mentre invece continuiamo a scendere nel prezzo abbiamo un consolidamento abbiamo anche un altro grande scosso nel finale e quindi lo stesso livello funge da resistenza mentre proviamo per superarlo e dalla fine appunto abbiamo un rally di sopra di esso e se guardiamo anche il RSI perché abbiamo la stessa struttura abbiamo questo fatto abbiamo un rally nel mercato bearish scendiamo e vediamo un consolidamento ed una volta che sopriamo questo livello cominciamo a scendere ancora più in alto in Bitcoin possiamo vedere anche il volume che è simile in questi punti quindi guardate questo fatto perché abbiamo un calo abbiamo un rialzo nel mercato bearish la gente pensa che saliremo e che andremo a superare il nostro massimo precedente e invece scendiamo e ci consolidiamo per vedere un shakedown finale abbiamo anche nell'RSI abbiamo questa tendenza in questa zona abbiamo un shakedown finale e poi una volta superato questo livello dove abbiamo un supporto precedente che si è trasformato in resistenza e sopriamo questo livello nell'RSI è qui che entriamo appunto in Bitcoin e guardate dove siamo adesso siamo in una fase di consolidamento adesso abbiamo avuto rally durante il mercato bearish ci siamo scesi ci stiamo consolidando e quindi il livello da superare adesso è a 32 o 35 mila dollari e quindi come sapete non abbiamo ancora raggiunto questo livello nell'RSI e questo qua in linea con quello che vi ho mostrato anche ieri nel grafico dell'ash ribbons che è anche un indicatore che è stato in grado di prevedere i minimi precedenti in Bitcoin e ci ha mostrato appunto quanto o quando possiamo entrare appunto in Bitcoin in base ai segnali dell'ash ribbons quindi questo qua è sicuramente qualcosa che continueremo a controllare le cose si stanno allineando per Bitcoin e preparatevi anche ovviamente per la volatilità che vedremo nei prossimi giorni per via di questi apprendimenti e se volete fare il trading avete fino a 4.580 dollari su Bybit il link è in descrizione e ragazzi come sempre grazie mille per aver guardato questo video questo qua è quello che ho per voi oggi e come sempre ci vediamo nel prossimo ciao a tutti